ciao a tutti allora oggi hanno segnalato altri cuccioli e cosa solita delle nostre parti eccole qua ci sono quattro cuccioli in una campagna ecco si trovano dentro un capannone sono bellissimi sono dei cuccioli stupendi c'è la mamma che va e viene non sappiamo di proprietà di nessuno questo terreno e quindi siamo riusciti ad entrare sono dei cuccioletti molto molto belli sono chiusi qua dentro eccoli qua avranno un mesetto circa sono belli adesso ve li facciamo vedere uno per uno e per fortuna che hanno segnalato tutto perché qua non hanno niente né da mangiare né da bere la mamma sicuramente li allatta si trovano in una campagna sperduta ecco qua questo è il posto dove si trovano questi cagnolini amori dai prendi da cos'è lo diamo sessi un attimino che prendiamo il sesso un attimino vediamo cosa sono belli miei adesso li prendiamo li portiamo con noi li mettiamo in sicurezza questi piccolini questo è un maschietto un maschietto amore che bello è bellissimo ciao vita vediamo 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 che cos'è un altro maschietto maschietto guarda 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 amore mamma mia belli miei prende l'altro un maschietto pure un altro maschietto piccolo belli miei saranno sicuramente affamatissimi ora li portiamo con noi al rifugio anzi no al rifugio no li portiamo in uno stallo perché è una femminuccia questa è la più piccola della cucciolata che bellissima e sarà una taglia piccola sicuramente una taglia piccola medio piccola ma che bella al colore del border collie ciao amore eccoli qua mi raccomando cerchiamo ovviamente casa pure per loro come facciamo con tutti perché qua siamo messi malissimo tutti i giorni eccoli qua no la mamma sarà in giro ecco qua e questo è il posto dove ce li hanno segnalati una campagna se adesso li portiamo con noi li portiamo in sicurezza li portiamo in uno stallo iniziamo con vaccini e sverminamenti però loro aspettano la mamma salutate e dite adesso vi aspetto mamma per favore non mi lasciate qua per carità perché siamo pieni di cuccioli quindi prima adottiamo e prima riusciamo a salvarne ok ciao a tutti ciao 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 ciao